Ciao a tutti, sono Simone Tomassini e anch'io ho intenzione di donare qualcosa per la Fondazione Comasca. Il 20 novembre ci sarà questa asta a favore degli anziani e io ho deciso di donare il primo scritto, la prima versione di E' Stato Tanto Tempo Fa, che addirittura si chiamava Sorvolo, del 20 maggio del 1996. Per me è una cosa molto importante perché questa canzone mi ha fatto girare il mondo, è stato il mio primo successo e l'ho portata al Festival di Sanremo nel 2004. Quindi il 20 novembre, se parteciperai anche tu all'asta benefica di Fondazione Comasca, a favore dei nostri anziani potrà essere tua. Ciao! Fondazione Comasca